Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché non sia più deserto affinché guidi i miei passi nel Regno del Volore Divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Apri le tue mani Gesù Io mi affondo in te Apri le tue mani Gesù Apri le tue mani Gesù Io mi abbandono in te Io credo solo in te Gesù Io mi abbandono in te Col tuo dirivo e me Io mi abbandono in te Io mi abbandono in te Gesù Io mi abbandono in te Con tuo frate amore Io mi abbandono in te Io mi abbandono in te Tu in me Io in te Gesù Io mi abbandono in te Io mi abbandono in te Dal libro di cielo volume secondo capitolo 89 29 ottobre 1899 Continua il mio adorabile Gesù a venire ma questa mattina appena venuto mi ha preso fra le sue braccia e mi ha trasportata fuori di me stessa Ed io trovandomi in quelle braccia comprendevo molte cose specialmente che per poter stare liberamente nelle braccia di nostro Signore ed anche entrare a bellagio nel suo cuore ed uscirne come all'anima più piacerebbe e per non essere di peso e di fastidio al benedetto Gesù era assolutamente necessario spogliarsi di tutto Quindi con tutto il cuore gli ho detto mio caro ed unico bene quello che vi chiedo per me è che mi spogliate di tutto perché vedo bene che per essere rivestita da voi e vivere in voi e voi rivivere in me è necessario che neppure l'ombra io abbia di ciò che a voi non appartiene E lui tutto benedetto mi ha detto figlia mia la cosa principale per entrare io in un'anima e formare la mia abitazione è il distacco totale da ogni cosa Senza di questo non solo non posso io dimorarvi ma neppure nessuna virtù può prendere abitazione nell'anima Dopo che l'anima ha fatto uscire tutto da sé allora vi entro io ed unito con la volontà dell'anima fabbrichiamo una casa Le fondamenta di questa si basano sull'umiltà e quanto più profonde tanto più alte e forti riescono le mura Le dette mura saranno fabbricate da pietre di mortificazione incalcinate d'oro purissimo di carità Dopo che si sono costruite le mura io come eccellentissimo pittore non con calce d'acqua ma con meriti della mia passione Indicata la calce e con i colori del mio sangue indicata l'acqua le intonaco e vi formo le più eccellentissime pitture E questo servirà per ben munirla dalle piogge dalle nevi e da qualunque scossa Appresso ne vengono le porte queste per far sì che fossero solide come legno e non soggette al tallo E' necessario il silenzio che forma la morte dei sensi esteriori Per custodire questa casa è necessario un guardiano che vigili dappertutto entro e fuori E questo è il timore santo di Dio Che la guarda da qualunque inconveniente vento ed altro che potrà sovrastarla Questo timore sarà la salvaguardia di questa casa che farà operare non con timore della pena Ma per timore di offendere Dio che è il padrone di questa casa Questo timore santo non deve fare altro che fare tutto per piacere a Dio senza nessun'altra intenzione In seguito si deve ornare questa casa ed empirla di tesori Questi tesori non devono altro essere che desideri santi e lacrime Questi erano i tesori dell'Antico Testamento E in essi gli uomini trovarono la loro salvezza Nell'adempimento dei loro voti, la loro consolazione, la fortezza nelle sofferenze Insomma tutta la loro fortuna la riponevano nel desiderio del futuro Redentore Ed in questo desiderio operavano da atleti L'anima senza desiderio opera quasi da morta Anche le stesse virtù Tutto è noia, fastidio, rancore Nessuna cosa le piace Cammina quasi strisciando per la via del bene Tutto all'opposto, l'anima che desidera Nessuna cosa le dà peso Tutto è allegria Vola Nelle stesse pene trova i suoi gusti E questo perché era un anticipato desiderio E le cose che prima si desiderano Poi vengono ad amarsi Ed amandosi Vi si trovano i più graditi piaceri Perciò questo desiderio va accompagnato da prima che si fabbricasse questa casa Gli ornamenti di questa casa saranno le pietre più preziose Le perle, le gemme più costose di questa mia vita Basata sempre sul patire Ed il puro patire E siccome colui che abita la casa è il datore di ogni bene Vi mette il corredo di tutte le virtù La profuma con i più soavi odori Fa olezzare più leggiati di fiori Fa risuonare una musica celestiale delle più gradite E fa respirare un'aria di paradiso Ho dimenticato di dire che bisogna vedere Se c'è la pace domestica E questo non deve essere altro che il raccoglimento del silenzio dei sensi interiori Dopo ciò Io continuavo a stare nelle braccia di nostro Signore Mi trovavo tutta spogliata Ed in questo nostro Mentre vedevo il confessore presente Gesù mi ha detto Ma mi pareva che voleva fare uno scherzo Per vedere che cosa io dicessi Figlia mia Tu ti sei spogliata di tutto E tu sai che quando uno si spoglia Ci vuole un altro che pensi a vestirla A nutrirla Che le dia un luogo dove farla dimorare Tu dove vuoi stare Nelle braccia del confessore o nelle mie E mentre così diceva Faceva l'atto di mettermi nelle braccia del confessore Io ho incominciato ad insistere che non ci voleva andare Lui che voleva Dopo un po' di contesa mi ha detto Non temere Ti tengo nelle mie braccia E così Siamo restati in pace Molte sarebbero le considerazioni da fare Su questo bellissimo capitolo Veramente straordinario Gesù usando l'immagine Della casa E rispondendo alla sollecitazione Diretta Di Luisa di spogliarla Di tutto Per poter essere rivestita Di Gesù Ecco queste parole Dei celebri passi paolini Di San Paolo Ci siamo spogliati Dell'uomo vecchio L'uomo che si corrompe Di tutto le passioni ingannatrici Ci siamo rivestiti dell'uomo nuovo E di questo uomo nuovo Come Gesù Conclude questo capitolo Bisogna appunto rivestirci Perché Non possiamo comparire davanti a Gesù nudi Ma sempre come dice San Paolo Sopravvestiti Stupendi Splendidi Allora Gesù fa questa Assoluta lezione Spettacolare Allora Quando facciamo una casa Non dobbiamo anzitutto Come dire Scavare un luogo Prima di gettare le fondamenta Si fanno gli scavi No? E si toglie un sacco di roba Dal luogo dove devono venire le fondamenta E qui Gesù Parla del distacco totale Da ogni cosa Le molte cose Che dobbiamo togliere Dalla nostra vita Non sempre Non solo E non necessariamente Da un punto di vista materiale Perché questo dipende Dalla condizione di vita Che occupano le persone Dal loro stato Dipende anche Da ciò che il Signore chiede Alle singole persone Il distacco è un fatto interiore Non è un fatto Principalmente esteriore Anche se evidentemente Deve concretizzarsi Anche In alcune Cose esteriori Noi non possiamo essere Attaccati A nulla E a nessuno In questo mondo Perché questo Ostapola L'unione con Dio Questo è un insegnamento Costante Della scetica Cattolica E dei maestri di spirito Io cito sempre Perché ho letto Le sue opere Ricordo bene San Giovanni della Croce Due esempi Lui riportava Nei suoi scritti No? Dice Un uccellino Se tu lo leghi Non volerà Gli attaccamenti No? Non c'è nessuna differenza Che tu leghi un uccellino Con l'anello di una catena E tra l'altro Con un uccellino Gli anche spacca La zampina Oppure che lo leghi Con un resistente Sottilissimo capello Quel resistente Sottilissimo capello Che neanche si vede D'occhio nudo E quanto basta Per non farlo volare Per non fargli spiccare L'uolo Questo per significare Quanto Gli attaccamenti Sono letali No? Racconta poi Un episodio Che a me Che mi rimase Estremamente Impresso E che fa molto Comprendere Come la nostra Natura umana C'ha proprio Nel DNA Questo spirito Di attaccarsi A qualcosa Attaccarsi E c'è una volta Un esempio Di un suo Frate Molto avanzato Nella perfezione Ma che non riusciva Ancora a raggiungere L'unione con Dio Ma questo era Poverissimo Faceva vita Mortificata Faceva vita Di profonda orazione Faceva vita Di profonda penitenza E il santo stesso Si dice Ma com'è che questo Non raggiunge L'unione con Dio Che c'ha? Insomma Pensa Prega Pensa Prega Pensa Prega Un giorno Viene a vedere Che questo qui Pregava davanti A una croce Rosa Fatta con due pezzi Di legno Legati l'uno all'altro Quindi una cosa Assolutamente insignificante Di nessun valore San Giovanni della Croce Prova a dire Dammi un po' Sta croce Togliamo sta croce Questo comincia A dare di testa Non voleva staccarsi Da quella croce Allora San Giovanni La Croce Gli era rotta Non mi ricordo Se era rotta Non credo Gli era tolta Gli era fatta sparire E lui stesso Diceva Guarda un po' Che roba Era una cosa Di nessun valore Eppure A quel frate Questo attaccamento Gli impediva L'unione con Dio Tolta quella croce L'unione con Dio L'ha raggiunta Quindi questo Per comprendere Quanto è importante Il distacco totale Da ogni cosa Sono appunto Gli scavi Di questo edificio Sapete che Gli schiavi Si butta via Un sacco di roba Si toglie proprio No? Si crea Un habitat Ideale Per un edificio Per una costruzione Poi le fondamenta Di questa casa Si basano Sull'umiltà Voi sapete Che le fondamenta Io Se il mio santo Va Buonanima Non santo E anche Che era ingegnere Le fondamenta Di una casa Possono essere Più o meno profonde Quindi si può Scavare più o meno A fondo Si possono Più o meno Ecco Appunto Essere più o meno Profonde E quanta più umiltà C'è E tanto più profonde Saranno le fondamente Se l'abbiamo visto Tantissime volte Se non muore Il nostro orgoglio Non muore È proprio messa sotto i piedi La nostra superbia E ricordiamo sempre Quanto è Sotto questo punto di vista Salutare E fruttifera L'ubbidienza E comincia sempre Perù Queste sono due Sola Le gemelle Quanto più Questa virtù è radicata E tanto più Le mura Saranno Alte E forti Queste mura Potremmo oggi Con terminologia moderna Ecco Dato che costruiamo le case In cemento armato Quindi fare pilastri E appunto I muri perimetrali Dice che sono fabbricate Da pietre di mortificazione Incalcinate D'oro purissimo Di carità Dopo l'umiltà Viene uno spirito Di profonda Penitenza Mortificazione Qui sicuramente Gesù intende Quella che si chiama Mortificazione Universale Quando La Divina Maria Parve a Fatima E chiese Sacrifici e penitenze E gli pastorali Richiesero Come dobbiamo fare Per sacrificarsi La Madonna Dispose In tutti i modi possibili E mortificazione Cominciando Dalle cose più piccole E mortificazione Non dire la propria In una discussione Per esempio E mortificazione E mortificazione Essere sempre dolci E garbati con tutti E mortificazione Non alzare gli occhi Al cielo Quando ci vorrebbe da farlo Noi pensiamo subito A grandi cose E mortificazione Non rispondere Neanche A gesti O a Mimiche del volto Diamo così A un atteggiamento Sgarbato Scostante E mortificazione Alla fedeltà Ai nostri doveri E mortificazione Non poltrire Nel letto Alla mattina Quindi alzarsi Ad orario fisso O darsi comunque Una regola Un tot Di ore di sono E mortificazione Darsi una regola Nell'alimentazione Non lasciare Che noi Sediamo E stiamo Allo stato Brato Insomma Quindi Mangio Fino a quando Mi va O bevo Tutto quello Che mi pare Sempre Dovunque E comunque E poi Ci stanno Anche La mortificazione Dei sensi Anche qui Di tutti i tipi Possibili Quanto più L'anima È mortificata Cioè Mortificare Dare Fare la morte E quindi Essere Realmente Come si dice Vivere nel mondo Ma senza essere Del mondo Quindi avendo Il cuore Altrove E badando Che tutte quante Le Ceneri Delle arabi Fenici Delle passioni Dell'uomo vecchio Non risorgano E siano mantenute Nella morte È necessario Praticare Questa virtù Senza mortificazione Non esiste La santità Nessuno Si illuda Che ci possano Essere Delle vie Facili E comode Di santificazione Che non passino Attraverso questo Salutare Travaglio Della mortificazione Poi Incalcinate Doro purissimo Di carità L'umiltà E la carità Unite a questo profondo Spirito di penitenza Sono la base E la forma Di tutte le virtù Se non si agisce Con il fine Dell'amore di Dio E subordinatamente Adesso Dell'amore del prossimo Dio non gradisce Nulla Quindi meno che mai Quando si agisce Per l'amore proprio O peggio Per l'amore disordinato Delle creature Quindi per fare le cose Davanti a loro Per essere visti Per essere notati Per essere apprezzati Per essere stimati Per essere ben voluti Tutte queste cose Diciamo Distruggono Sono come un Sono come un tarlo Sono come un acido Che sgretola Qualunque cosa Che noi facciamo Che davanti a Dio Che davanti a Dio Non ha assolutamente Nessun valore Quando è mosso Da queste Da queste Passioni Che sono La negazione Del loro purissimo Della carità Ecco Poi Gesù fa tinte E in tonaco E questo ci pensa E questo ci pensa lui Le tinte in tonaco Sono di colore rosso Perché sono Fatte dal suo Santissimo Sangue Questa è un'operazione Che fa lui Come eccellentissimo Pittore Quindi La tinta Della casa Quindi ciò Che rende bello Il nostro sforzo È È il suo sangue E questo serve Non soltanto Alla bellezza Esteriore Ma anche Ad essere muniti Da pioggia Da neve Da qualunque scossa Il sangue di Gesù Ci purifica Da ogni colpa Ed è il nostro rifugio Ecco Fatto questo Bisogna metterci le porte E Gesù dice Che le porte Sono Il silenzio Il silenzio Qui parla di silenzio Anche esteriore È un soltanto silenzio Interiore Cioè Imparare È chiaro Che non possiamo Vivere come monaci Certosini Che passano la giornata In silenzio Non parlano con nessuno No Ecco È silenzio Parlare santamente Essere capaci Di tacere Quando c'è Da tacere Avere Facile Facilità A raccogliersi Interiormente A vivere davanti Al Signore Eccetera Certamente Osservando Dei momenti Di silenzio Rigorosi Anche Nella Nella nostra vita Quali sono Soprattutto I tempi Riservati Alla Briere O al nostro Stare in chiesa Insomma Dove Il silenzio Deve essere Assoluto Ecco Il guardiano Di questa casa Il custode È il santo Timore di Dio Gesù spiega Cosa si intende Per santo timore di Dio Non è la paura Di Dio Noi non agiamo mai Mossi da paura Mai E di Dio Non bisogna avere paura Di Dio Deve avere paura Chi vive lontano da Lui D'accordo? Dice Gesù Che Lui viene come un ladro Per quelli che Stanno bivaccando E gozzovigliando Ma per gli altri Viene come un amico Non viene come un ladro Quindi questo timore santo Di Dio E questo è Una disposizione del cuore È l'intenzione Di fare tutto Per piacere A Lui solo A questo dobbiamo Chiedercelo sempre Per chi sto facendo Questa cosa? Per chi? Non soltanto perché Ma per chi? Per piacere a chi? Se uno è innamorato L'ho detto tante volte Procura In tutto e per tutto Di piacere Al proprio innamorato E non gli importa Di quello che pensano Gli altri Importa semplicemente Di fare contento In tutto Lui Poi Gesù Dà un grandissimo segreto Parla del desiderio Io questo Allora Senza un ardente desiderio Senza un grande desiderio Desiderio di cosa? Desiderio di stare uniti Al Signore Desiderio di conoscerlo Di più Desiderio Di intimità con Lui Desiderio di crescere Nel rapporto di amore Con Lui Ripeto Per le anime devote Della Madonna La stessa identica cosa Accade con Maria No? Come spiega San Luigi Che se uno bussa Bussa e ribussa E si rende degno Della sua presenza Con una vita Ecco Provata Al suo servizio Dio gli apre Il mondo di Maria Si comincia a vivere In Maria E Lui Lì usa un sacco Di immagini Metaforiche Si trovano torrenti di grazia Si trovano giardini fioriti Dentro di lei Ci sono tutte quante immagini Che chiaramente Lui Io sono sicuro Che sapesse benissimo Cosa significava Vivere in Maria Ma Evidentemente occulta Questo splendore Come doveroso fare Per i lettori Che non sono Ancora Come dire Degni In grado Di Di poter gustare Tali bellezze No? Ma questo Può stare tranquilli Che senso Un grandissimo desiderio Io Per quanto posso comprendere Il cielo Gradisce sommamente I nostri desideri E È Proprio Sommamente Non mi era Più che offeso Intristito Ecco Proprio dal contrario Che l'indifferenza Perché il desiderio è Il contrario del desiderio È l'indifferenza Perché non me ne importa niente Tete Allora Senza desideri santi E lacrime E lacrime Lacrime Sono le lacrime Di cui parlano i maestri di spirito Sono le lacrime di struggimento Sono le lacrime di languore Cioè Quel desiderio Talmente grande Di essere uniti con loro Che sfociano le lacrime Perché Attualmente Non c'è la loro presenza È uno dei pianti santi E molto graditi al cielo Ora molto è bello Quello che dice Gesù L'anima Senza desiderio Anche se fa opere santi È un'opera quasi da morta E qui dobbiamo farci L'esame di coscienza Com'è la nostra vita La nostra vita La nostra vita Come facciamo le cose Facciamo le cose con noia Con fastidio Con rancore Nessuna cosa le piace Cammina quasi strisciando Per la via del bene Sono le persone che si trascinano Sono Le fanno le cose buone Ma siete che le fanno proprio Come se stesse Alla scaricare un camion Un container Ecco Invece un'anima Che ha grandi desideri Quindi che Vola I desideri sono le ali dell'anima Nessuna cosa le dà peso Tutto è allegria L'anima con grandi desideri È sempre nell'allegria Nella gioia Nel buon umore anche Nelle stesse pene Trova i suoi gusti E questo lo sa Chi ne ha fatto esperienza Cioè soffre immensamente Ma Gode nella sofferenza E non perché è masochista Ecco È una cosa del tutto particolare Che bisogna vivere Gode nella sofferenza Perché sa che le sofferenze Sono gradite al Signore Sono sua volontà Sono cose che lui chiede Che ci mette davanti E quindi Se io so che offrendo Quella sofferenza Lo faccio contento E tanto desidero farlo È chiaro che sono contento Anche se soffro Nelle pene trova i suoi gusti Perché prima Che erano anticipato Desiderio E le cose Che prima si desiderano Poi vengono ad amarsi Tu non puoi amare Una cosa Se non l'hai desiderata Tanto Ed amandosi Si trovano I più graditi I piaceri Ho detto qualche giorno fa In qualche meditazione Che San Tommaso d'Aquino Gli scappò Un si vergognino Quelli che Ecco Dinanzi Ai più graditi I piaceri divini Degni dell'uomo L'uomo non è stato fatto Per quelle porcherie Schifose Che si vedono in giro Per avvoltolarsi Nella latrina Dei piaceri Dei sensi Bassi E nauseabondi Ma è stato fatto Per ben altro Lo trovo Questo ben altro Se c'è questa casa Costruita in questo modo Se c'è questo desiderio Che anima Tutta la persona Desiderio Che porta Come dice San Paolo Se siete risorti con Cristo Cercate le cose di lassù Pensate le cose di lassù Non a quelle della terra Cioè il mondo perde completamente Come dire Stimoli Importanza Fascino Ecco Sant'Ignazio di Antioca Quando stava per andare Martire a Roma Sbranato dai leoni Dice Ormai per me La vita di qua giù Non ci sta proprio niente Non conta meno che niente Zero Non mi interessa È evidente Perché chi ha conosciuto altro Veramente Guarda con sovrano disprezzo Tutte quante le bassezze del mondo Non chiaramente le anime Che sono immerse Da poveri ignoranti Nel senso che non sanno Che ci sta altro In quelle miserie Ma di per se stesso Tutti quanti i beni Solti I successi I poteri I piaceri Sant'Agostino Lippona Che aveva fatto vita Stramondana Fino a 33 anni Lui stesso Scrisse E scrisse chiaramente Il vero Un solo secondo Lui lo chiamava Di amplesso divino Non vale Tutti gli amplessi carnali Che si possano vivere In questo mondo Lo scrive lui E lui sapeva Di cosa stava parlando Non è che Parlava insomma Per Dice Vabbè Supponendo che Gli amplessi carnali Siano belli Quelli divini Sono più belli Nonno Lui lo sapeva Come erano Quelli carnali Perché c'era pure Un figlio Sant'Agostino Quindi Non deve stupire Perché è stato battezzato A 33 anni Quindi viveva Come un pagano Prima della conversione Ecco E infine Le pietre preziose Le perle Le gemme Che ornano Questa casa Questa è una casa Un problema Immaginarsi È una casa Di lusso È altro che Le case Dei patrizi romani Ecco Qui dentro Ci stanno Pietre preziose Gemme Correddo di tutte le virtù I profumi Sapete che le case Dei romani Erano tutte Improfumate Di incensi Che venivano accesi Dagli schiavi In tutte le Le stanze Lussuosissime No? Ecco Piena di fiori I più Leggiati di fiori Che profumano pure loro La musica La musica celestiale Però Delle più gradite È un'aria Di paradiso Questi non sono Sogni D'accordo O Cosi Raggiungibili O Chimere Ecco Questa è realtà Per chiunque Voglia Davvero Vivere unito al Signore Certamente Utilizzando I mezzi Ecco Abbiamo sentito Come si costruisce la casa Io non posso Fantasticare Mettermi a fare un bel sogno Di stare in questa casa O illudermi addirittura Di viverci Senza chiaramente Aver cooperato Con la grazia santificante Con la chiamata Che Gesù Offre a tutti Questa casa Sarebbe L'abitazione Di ogni essere umano Spremmo benissimo Che nel regno Della divina volontà Questo si vive Cioè si vive Da grandissimi signori Adamo era un grandissimo signore Aveva una casa Di questo genere Purtroppo L'ha persa Infine Gesù mette questa chicca Che è la pace domestica Raccoglimento e silenzio Dei sensi interiori Quindi non basta Il silenzio esteriore Che va comunque custodito Ma ci vuole anche Un profondo spirito Di raccoglimento E il silenzio Dei sensi interiori Quindi la capacità Per esempio Quando si prega Di mettere a tacere Le agitazioni Ecco Anche dell'anima Quindi di fare il possibile Non sempre dipende da noi Per entrare in contatto Con Gesù No? Gesù che poi conclude Con questo Suo gioco Perché A quanto ci racconta Luisa Dal cielo Giocano ogni tanto Non poco Fanno giochi d'amore Vedete che dice Gesù mi ha detto Ma mi pareva Che voleva fare uno scherzo Per vedere cosa io dicessi No? Dice Ah bravo Adesso ti sei spogliata di tutto Adesso c'è bisogno di qualcuno Che ti veste Che ti nutra Adesso ti metto Nelle braccia Del confessore Ecco Qui vedete come Cioè è impressionante No? Gesù che voleva Voleva Come dire Voleva Suscitare Evidentemente La risposta di Luisa Non ci voglio andare Voglio stare con te E infatti poi Non temere Ti tengono nei miei braccia Capite? Cioè Io rimango sempre molto sconvolto Quando leggo queste cose Perché sembra Veramente sembra come Non so Come due innamorati umani No? Cioè Ecco Io Ho conosciuto insomma L'amore umano No? E si fanno questi giochi Tra fidanzatini L'amore 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 Per sentirsi desiderato Per sentirsi amato E quando due persone Si innamorano Capiscono subito il gioco E stanno al gioco No? Ecco Questo è quello che Gesù fa Con le anime Che Gli ama Io Ho sempre pensato Dico Certamente Esistono delle anime Un po' particolari No? Però Nel regno della divina volontà Noi impariamo una cosa Non ci sono Preclusioni A priori Per nessuno Cioè Chi non dovesse Giungere a vivere In questa casa Non potrà dire davanti a Dio Ah sì Ma tanto questa Non era roba per me Io ero destinato ad altro No 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 Questa è roba per tutti Bisogna vedere A chi gli interessa Abitare in una Sì fatta casa Ecco che certamente È stupenda Ma La sua edificazione Come abbiamo visto Non è cosa Da poco Sia scavare la fondamenta Sia Gettare la fondamenta Sia A alzare le mura Alzare le mura Che sono le operazioni Che vanno fatte Certamente Prevenute E coadjuvate Dalla grazia Ma vanno fatte Da noi Ecco Così come La custodia Del santo timore di Dio No? E Il fare tutte le cose Per piacere A lui solo La mortificazione La carità L'umiltà Abbiamo sentito Gli staccoli Abbiamo sentito No? Che voglia il Signore Farsi avvenire Un grande desiderio Quanto meno Come dice il Salmo 83 Beato chi abita La tua casa Sempre canta Le tue lodi E beato Chi trova in te La sua forza E decide nel suo cuore Il santo viaggio Grazie a tutti O Divina Maria Tu sei invocata Nelle litanie lauretane Come casa d'oro Ecco tu La casa che tu hai costruito Per il nostro Signore È assolutamente Da sogno Ecco Assolutamente Al di là Più bella Più grande E superiore Anche dello splendore Che abbiamo Meditato Sì tu Ecco la Divina Architetta Ecco che ci aiuti Bene Ad eseguire Puntualmente Il Divino Progetto Della costruzione Di questa casa Perché possiamo In essa abitare Con te Poi E con lui Con te Con Gesù Che siete gli unici amori Del nostro cuore E vogliamo Che siate gli unici amori Del nostro cuore Il re e la regina Dei nostri cuori Rendici sempre Persuasi Convinti Che non si tratta Di cose impossibili Nessuno pensi Che queste siano cose Impossibili a farsi Ma alla portata Di cuori Che sinceramente Si aprono All'amore di Dio E sono animati Da grandi desideri Quei grandi desideri Che Dio stesso Suscita Perché noi dobbiamo Accogliere Coltivare Senza timore E dilatare Con tutto L'apporto Anche del nostro Povero cuore Certamente piccolo E segnato Da tante miserie Ma creato da Dio Per ricevere il suo amore E per dare a lui Il contraccambio del nostro Come profondamente desideriamo E come Sul tuo esempio E per la tua intercessione Ti chiediamo Presto Di imparare A fare Nella Divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per Difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni male Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico dunque E nella Divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Maria Grazie a tutti Grazie a tutti.